Ci troviamo in casa di Antonio Di Nardo, che di professione lavora come indipendente impiegato nelle poste centrali di Termoli. Antonio Di Nardo però oggi è qui con noi, non per parlare del suo lavoro, perché è una cosa che in questo momento interessa lui, interessa la sua vita privata. Noi oggi parleremo con Antonio Di Nardo di una sua passione, perché voi sapete che ognuno di noi ha delle passioni, coltiva delle collezioni, ma anche le cose più disparate, come per esempio chi colleziona i tap e le apre bottiglie con i paesi che doveva visitare, ci sta chi le figurine e altre cose. Antonio Di Nardo ha la passione per le Ferrari specificatamente, modellini, perché sarebbe il massimo avere una passione per le Ferrari reali, perché a parte sarebbe un super miliardario e poi non lavorerebbe nemmeno le poste, detto questo. Allora Antonio, io vedo già qui, possiamo già inquadrarle se vogliamo, vediamo, ci sono una parte, ecco una parte, perché tutte non ci sarebbero, però una parte molto significante di questo che è la tua passione. Vedo tanti modellini delle Ferrari, le rosse, le famose, però ci sono anche modellini in color giallo, modellini in color oro, argento. Insomma, innanzitutto, da quanti anni è che coltivi questa passione, perché questa è veramente una passione, ma molto speciale, insomma. Allora, Antonio. È iniziato così per gioco una ventina di anni fa, collezionavo solo modellini più economici, i cosiddetti di e-cast, poi vedendo dei modelli speciali ho svenduto tutto e sono passato ai modelli speciali, che mi faccio fare su commissione o compro già fatti. Ecco, quindi tu già mi stai dicendo una cosa, che compri specificamente, adesso vabbè, con internet, il mondo dell'internet tutto è più facilitato, Magari prima per trovarli era più difficile, adesso basta cercare i siti giusti. Insomma, alcuni kit già sono fuori produzione e sono introvabili. Appunto, qui c'è anche dei pezzi introvabili. Quali sono? Fammi vedere, indichiammi col dire. Allora, questa, come si può vedere, esemplari uno di uno, è stato recensito anche sulla rivista Modelli Auto nel 2007, è stato fatto su mia commissione con diverse specifiche, rifacimento delle ruote in resina, fari posteriori in policarbonato, interni rifatti, eccetera. Praticamente è un modellino, ma potrebbe essere la stessa cosa che fosse il modellino. Il montatore, in questo caso, è Stefani Adami, conosciuto nell'ambito degli artigiani. Cioè, ma tu in questo campo devi avere anche una conoscenza incredibile, perché comunque non è che si può, ecco, tu già dicendomi che hai fatto fare quel modellino proprio su modello, su commissione. Ma la maggior parte sono tutti su commissione, infatti hanno tutte le targhette autografate. Ma tu come fai ad avere tutta questa conoscenza? Hai praticato il mondo dell'automobilismo? Vabbè, su internet, sui quali forum di modellismo, eccetera. Quindi hai avuto questa passione che poi mano a mano si è sviluppata, perché poi tu con le riviste specializzate e anche con l'aiuto adesso di internet riesci comunque ad avere delle conoscenze che magari noi, poveri mortali, in questo caso non ne sappiamo nulla, a meno che di non vedere il Gran Piemio per televisione, insomma. Per esempio questa può sembrare un modellino normale, però c'è una lavorazione di base... Avvicinano proprio, avvicinano proprio, avvicinano, ecco questa. È un kit di partenza BBR, sono stati modificati i cerchi con dei cerchi di Bosica. È un lavoraccio, però. Chi Bosica, chi conosce il modellismo sa chi è Bosica. E tutte le fotoingisioni, i snip degli scarichi, le luci target, eccetera. La minuzia dei particolari. Sono AMR. Senti, ma adesso ti faccio una domanda, ma banale, potrebbe sembrare banale. Il Mondatore in questo caso è il Gualtiero Negri. Gualtiero Negri. Che è il 90% della mia collezione. È il 90% della tua... No, ma dico, ma Antonio, scusami un attimo, ma questa è, ripeto, può sembrare una domanda banale, però ti voglio dire, ma questa è la tua passione, la tua collezione, che è anche abbastanza onerosa? Diciamo, si parte da kit, dai 200 euro a salire. A salire, quindi si parte da un kit da 200 euro a salire. Eh beh, certo, del resto, se tu fai comunque una richiesta specifica a chi ti deve fare questo modellino su commissione, certamente... Dipende, poi si parte, se vuoi un montaggio da scatola, un montaggio professionale, le varie modifiche. Tu queste vetrinette che hai preparato le hai fatte tu o te le sono arrivate già così? No, la vetrinetta viene fornita direttamente dall'assemblatore. E in questo momento, in questa collezione che tu hai fatto, preparato per noi, per questa intervista, qual è il pezzo più pregiato? Hai detto quello che mi hai fatto vedere prima o c'era un pezzo pregiato? E la Mythos, che è un esemplare unico. Ah, quello lì? E... Poi abbiamo, vabbè, la 312 montata da Qualtiero Negri, autografata sia da Arturo Merzario che da Nino Vaccarella. C'è anche l'autografo, quindi anche quello conta, insomma, dai. Targa Florio. Targa Florio, ah, questa è proprio, diciamo, l'epoca... Guarda, guarda che... La stessa cosa, la P4, sempre montata da Qualtiero Negri, autografata da Nino Vaccarella, ex pilota Ferrari. Però, eh, ragazzi, qui stiamo parlando di cose veramente... Una collezione che non è una collezione così tanto per fare qualcosa. Fatta fare così per gioco, invece, la 348 Challenge Italia. Ah, questa l'hai fatta fare per gioco, insomma. Sì, ho conosciuto il pilota di San Martino. Ah, di San Martino il pilota? Sì. Quindi bella questa, così... Ma questa, così com'è, non era in auge. No, abbiamo fatto rifare gli adesivi, è stata fatta proprio... Proprio ex novo. Due esemplari, una a me e una alpilota. Io va bene a due. Sì, ci sono due esemplari in giro di questo. Sì, due esemplari. E in costruzione, anche il modello successivo, la 355. Prossima in arrivo. Caspita. Senti, ma questa passione, tu l'hai presenziato a qualche Gran Premio, naturalmente. Sei andato a vedere qualche Gran Premio dalle Ferrari da qualche parte, vai in giro. No, sinceramente non mi spiro più di tanto. Ma neanche per televisione li vedi Gran Premio? No, perché ormai è finito tutto. Ah, tu pensi, giustamente, tu dici, hai troppi soldi, troppi... come tutto lo sport che ho guastato. Allora, tu ti consoli solamente, appunto, facendo questa collezione... Ogni tanto mi regalo un pezzo. Mi auto regalo un pezzo. Ti auto regali un pezzo. Era partita così, solo rosse, poi ho deviato vari colori per... Ma di preciso quanti modelli... Adesso questi che tu hai messo qui, quanti ne sono? Questi no, sono una sessantina. Sessantina, ma totale quanti ne hai? Avevo sui 250 modelli... Avevo, perché non ce ne hai più adesso? 100 modelli li ho venduti per far spazio solo a speciali. Ah, quindi c'è anche... Sto rimbalzando i stessi modelli con modelli di qualità superiore. Quindi scusami, c'è anche la possibilità di poter... Magari qualche altro collezionista che sa che tu hai questa passione, che ha questi modelli, che lui magari c'è, qualche altro che magari gli mancano quei modelli, tu li puoi anche rivendere in questo senso, insomma. Ma questi no, perché questo è frutto di... Però se ti chiedono qualche d'uno, che tramite anche tramite internet, se qualcuno ha un modello che serve, tu magari ce l'hai, glielo puoi vendere anche volendo. Quindi anche diciamo... Possano procurare quali... Anche... Quindi... Allora, bisogna riconoscere che è una collezione bella, per chi è appassionato di queste cose, però fa strano il fatto che tu non segui neanche più lo sport automobilistico, però lo segui in questo modo, perché è il modo migliore per pensare a questa passione, per questo e perché... Sì, sono io. Quindi, secondo te, chi è stato il più grande pilota di Ferrari che abbiamo avuto fino adesso? Vabbè, solo Schumacher. Schumacher, quindi sei uno Schumacherista. Insomma, perché gli altri... Però ci sono stati anche altri, che comunque gli sono andati vicini. Altri che ti ricordi tu? Sì, ma non si può più, come detto, quindi non saprei neanche dirti... Ormai il mondo delle corse è cambiato. È bastato, anche perché sono delle regole un po' assurde, abbiamo cambiamenti, proprio per far modo che... Per queste grandi multinazionali che spendono soldi e vogliono dei vantaggi. Quindi lo sport, in questo senso, anche nell'automobilismo è tutto... Prima c'era più gente che sapeva fare il proprio mestiere di pilota, ecco, l'ultimo forse è stato proprio Michael Schumacher, che era veramente un pilota che qualsiasi macchina guidava sapeva guidarla, insomma. L'ultima che vorrei farvi vedere è questa qua, è un modello sempre speciale. È Candy Pink, è stata fatta per mia figlia, ha scelto il colore. Ah, ecco, questo è proprio un modello per tuoi figli. È un modello speciale, sì. Ma i tuoi figli coltivano anche loro questa passione? No. Non gli importa più di niente? Neanche peggiori. Tutte rosse te le fai solo per te, allora ho fatto fare questo modello. Quanti bimbi c'hai? Due bambine. Una di otto e una di quattro anni. Si chiamano? Serena e Ilaria. Serena e Ilaria, quindi loro hanno altri giochi a cui pensare. Sì, anche. Ma sei geloso se te li tocca qualcuno? Magari tua moglie vuole spolverare. No, dopo l'intervista le macchine ritorno tutte nelle custodie, vanno riposte tutte. Quindi l'hai messo solo per noi, questo ti ringraziamo. Solo per noi, infatti una, già ieri l'hanno fatta cadere per aiutarmi. Quindi ti ringraziamo per questa tua... Va bene Antonio, allora noi abbiamo registrato questo fatto che tu hai questa grande passione, ma veramente passione nei dettagli, quella che è la cosa più importante. Cioè tu non è che coltivi una passione, c'è un modellino, lo metti qua ogni tanto, ti prendi il capito un modellino. No, tu vai proprio, fai una ricerca, diciamo capillare, una ricerca capillare del modello e te li fai anche costruire come piacciono a te o come piacciono a qualcun altro. In base alle proprie esigenze. Tu guarda che roba, ma ci sono questi personaggi che fanno questi lavori qua, quindi ci sono proprio specifici. Tu sei collegato con quanti personaggi di questo genere che riescono a costruirti un modellino? Allora, nella mia collezione abbiamo, come detto, Gualtiero Negri, che è un assemblatore di Bergamo, quindi? Stefano Adami, Stefano Adami, Verona, e poi altri riposti, Faster 43, Alfonso Retano, parliamo tutti di assemblare gli anni Ottavani. Sei collegato via internet con loro per queste cose qui? ma più che altro adesso ho deviato solo Gualtiero Negri che è nata un'amicizia, sa come ha condendato, sa le mie esigenze, non chiede niente. Sei uno dei suoi clienti pregiati, insomma, dai. Va bene, allora siamo contenti di aver conosciuto questa tua passione che coltivi, nonostante i tuoi impegni lavorativi che non sono di poco conto, visto che ti impegnano parecchio, però quando sei qui nel tuo eremo, nella tua casa, hai dei momenti in cui ti dedichi e ti butti a capofitto in questa collezione, in questa ricerca che vai trovando anche sui libri, su internet, visto che ci abbiamo l'aiuto anche della tecnologia. Sì, sì. Bene, allora Antonio, noi quando vorrai farci sapere di qualche modello rarissimo che tu sei riuscito ad avere nella tua collezione, noi saremo ben lieti di poterne dare notizie perché comunque ci piace questo tipo di collezione che tu stai facendo, che stai coltivando. Nella vita bisogna avere anche dei momenti da dedicare alla propria persona, alla propria passione, alle proprie voglie che vogliamo dire. Tu hai scelto questa delle modellini, noi da ragazzino, io che ti parlo da ragazzino con questi modellini, ci giocavamo sui marciapiedi, facciamo le piste con il gesso e facciamo le gole, mentre tu le tieni belle in bella evidenza ed è bene che sia così e sono davvero, davvero tanto, tanto belle e tanto rare se vogliamo dirle in questo senso. Antonio Di Nardo, grazie per averci concesso un parte del tuo tempo ed averci aperto casa tua per farci vedere la tua collezione, siamo veramente ben lieti di averlo potuto fare e ti diamo, ti auguriamo innanzitutto come redazione il Buon Natale e speriamo che Babbo Natale ti porti un modello ancora per i tuoi 40 anni, benissimo, grazie Antonio.